Saranno le prove speciali del rally Città di Pistoia a caratterizzare il weekend di MM Motorsport Porcari. Il team lucchese è pronto ad interpretare l'asfalto dell'ultimo appuntamento della Coppa Rally di zona 6, schierando tre esemplari del proprio parco vetture. Disporà di una Skoda Fabia Rally Duevo, Luca Artino, il pilota pistoiese, si presenterà sulla pedana di partenza come uno dei più attesi, chiamata a far valere la propria conoscenza del percorso. Al suo fianco Andrea Gabelloni, copilota di riferimento delle sue programmazioni stagionali. Cercherà riscatto dopo una Coppa Città di Lucca condizionato dalla sfortuna Davide Giovannetti. Il driver, affiancato da Alessio Rossi, tornerà al volante della Skoda Fabia Rally Duevo per alimentare la crescita di feeling con la vettura espressa nelle ultime occasioni. Obiettivo rivolto alla classifica della Coppa Rally di zona per Simone Dolfi. Il pilota, attualmente terzo nelle gerarchie del campionato, cercherà di scalare posizioni nell'ultima mancia disponibile al volante della Peugeot 208 R2 che vedrà sul sedile di destra Alessio Pellegrini. Due le giornate di gara, sette prove speciali in totale, tre da disputarsi sabato e quattro domenica per un totale di 67 chilometri cronometrati. La partenza è prevista dal centro di Pistoia alle 17.30 di sabato, con l'arrivo il giorno dopo nella stessa location a partire dalle 16.15.